al fondo di noi stessi non c'è il nulla il buio l'errore c'è luce c'è luce è che noi siamo amati questo è il messaggio del vangelo e se tu ti guardi davvero in fondo a te stesso trovi questo amore e se trovi questo amore questo saperti amato questa è luce e se hai trovato questa luce è giusto che questa luce non rimanga nascosta dice il vangelo non può restare nascosta una città collocata sul monte non si accelle una lampada per tenerla nascosta sotto un secchio ma per essere messa in alto illuminare tutta la stanza questo per dirvi che cosa cari amici serve a poco celebrare la pasqua se questa pasqua poi non viene messa in alto e illumina tutto il resto della stanza il mondo ha bisogno della pasqua ma la pasqua che il mondo aspetta non verrà da un cielo qualunque siamo noi quel cielo che può rendere possibile la pasqua se questa luce arriva in noi può arrivare nel resto del mondo se non arriva in noi non soltanto lasceremo al buio noi stessi ma lasceremo al buio anche il mondo ecco il valore della testimonianza non si è mai cristiani per se stessi si è cristiani con responsabilità il signore ha dato a noi il dono della fede perché risplendendo di questo dono possiamo illuminare anche chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte risplendendo di questa